no spostati esatto perché poi me lo prende dentro c'è capota devi scendere dritto prego allora ma perché mi fate paura fammi vedere la faccia non c'è qua niente giù dai non prendere la pianta prendi dentro la ma poi lo metti in paranoia per niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente poi l'ha preso eh ma va e tu ascolti ancora gli altri tu non hai capito che non devi ascoltare nessuno c'è il cambio di glia eh se vuoi cambiare di qua vedi alzi questa e metti la seconda è incredibile è incredibile con la moto qua eh terza è partita lì io proverei ma fa la fine del marco altro giro altro regalo vai oh 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 tre volte o anche quattro forse devi fare a o a come in montagna ma se sei appena arrivato anch'io quasi ma dove non so neanche che ora erano le sei anche che discorsi filosofici che fate o adesso vuoi scendere da lì così ma io piuttosto che fare quella fatica lì scendevo da qua sicuro non mi ascolta più nessuno non c'è niente da fare presidente che ha perso i poteri qua eh ma perché lo sanno dai giro della giostra anche per te vai 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 da sotto oh la tenuta lo stesso eh la tenuta lo stesso si è riuscito lo stesso eh esatto eri tutto scombinato ma cazzo è andato fuori la stessa ancora tu l'abbiamo messo in crisi o dai dai però parti dalla manetta via basta via andiamo allora andiamo andale 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 la zona del marco ha fatto le sue vittime